Chiusa in casa, asserragliata nella sua cameretta, Marta non vede e non sente più nessuno. Giorgio diventa tutto per lei, il suo buongiorno, la sua buonanotte, il destinatario dei suoi messaggi e i cuori lampeggianti, di confessioni e di condivisioni. Le amiche di Marta sono un po' preoccupate, perché a lei non si fa più quasi sentire. Sembra scollata dal resto del mondo e spesso con loro è scontrosa e pensierosa. Marta vive solo in questo amore e per questo amore, di cui però nessuno sa quasi niente. Le amiche sanno che Marta ha subito bullismo durante gli anni delle medie, perché aveva tantissime acne giovanile. Sono amiche fidate e le riferiscono di avere il dubbio che Giorgio si trattenga online anche con le altre ragazze, in particolare con una di nome Jessica. Ci sono l'Istituto Comprensivo di Bienno con la classe 20A, la terza F dell'Antonietti di Iseo per la secondaria di secondo grado e la classe seconda E con la studentessa Vera Cominotti dell'Istituto Comprensivo di Lumezzane tra i vincitori del concorso Pretendiamo Legalità, un progetto finalizzato alla promozione della legalità promosso dalla Polizia di Stato in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione. Gli studenti hanno realizzato dei lavori multimediali che hanno presentato insieme a tanti altri ragazzi. Il concorso infatti coinvolge 70 province italiane e si rivolge agli studenti della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e di secondo grado con l'obiettivo di approfondire i temi del rispetto delle regole, del corretto utilizzo della rete internet e dei valori della Costituzione. Nel Bresciano hanno aderito all'iniziativa 21 istituti. Durante l'anno scolastico si sono tenuti vari incontri che hanno visto la partecipazione di oltre 2.500 tra studenti, docenti e genitori, un momento di interazione e di confronto tra gli operatori della Polizia di Stato e gli studenti che durante i collegamenti in remoto hanno affrontato argomenti che vanno dal bullismo e cyberbullismo al corretto utilizzo di internet e dei social e alle varie forme di discriminazione. Dopo gli incontri gli studenti hanno realizzato un elaborato di testo, di arti figurative con tecniche varie, graphic novel, video o spot, sui temi affrontati con la partecipazione di un testimonial d'eccezione, il commissario Mascherpa, protagonista del graphic novel edito da Polizia Moderna. I tre lavori scelti in provincia di Brescia da una commissione nominata dal questore, Internet 18 degli studenti di Bienno, Internet di Lumezzane e Credevo Fosse Amore di Iseo parteciperanno alla selezione nazionale che si concluderà con una premiazione finale.